Buonasera, buonasera a tutti che ci seguite su Libri TV, nuovo appuntamento con Creare il futuro Frosinone al centro, queste trasmissioni che stanno ottenendo un certo successo e che ovviamente vedono questa città, Frosinone, al centro della nostra attenzione, appunto come da titolo risulta, e la prospettiva è quella delle amministrative del duemila ventidue. Eh con noi collegato oggi abbiamo per Paolo Segneri come di consueto, presidente dell'associazione Frosinone al centro, eh docente di lettere presso l'istituto di istituzione superiore Tommaso Salvini di Roma e abbiamo ospite anche Cristian Bellincampi, che è consigliere comunale eh di Frosinone, consigliere del Movimento Cinque Stelle, eh già candidato sindaco nel nel duemiladiciassette, oggi appunto sede nei banchi dell'opposizione eh nel consiglio comunale. La formula che utilizzeremo è quella più o meno ormai potremmo dire consueta eh del faccia a faccia eh quindi cinque minuti eh di eh contraddittorio eh si parla si passa la parola l'uno con l'altro, io terrò il tempo eh non eh mi limiterò insomma a questo eh ringraziamo ovviamente eh Cristian e tutti quanti gli altri ospiti e tutti quelli che vorranno ovviamente intervenire nelle varie forze politiche per eh contribuire a questa diciamo finestra che a questo punto potremmo dire multicolore eh date le varie eh forze politiche che eh interverranno tramite insomma vari portavoci o rappresentanti come dire per dare appunto questa panoramica su eh Frosinone in questa prospettiva delle amministrative eh e noi puntiamo soprattutto un pochino l'occhio sulla sul dibattito per arrivare a una eh alle candidature insomma un po' la selezione ma soprattutto un discorso sul sul metodo ovviamente non si può prescindere poi anche dai contenuti eh detto questa eh cosa molto breve io darei subito la parola a Pierpaolo Segneri lo ringrazio anche a lui e cinque minuti Pierpaolo e si parte. Grazie Gianni eh ovviamente ringrazio Cristian Bellincampi eh di aver accettato questa occasione di dialogo di contraddittorio eh sono molto contento secondo me sarà una puntata di dibattito molto interessante ne sono sicuro perché insomma conosco Cristian e anche la sua eh qualità di ehm persona impegnata nel senso più alto e nobile della parola quindi eh eh ama molto Frosinone e quindi come me sentirà la passione del dibattito. Vorrei iniziare questa ehm conversazione ricordando visto la scomparsa recente del senatore Romano Misterville eh di ricordare eh questo uomo questo politico questo avvocato che mh insomma ha lasciato la sua impronta eh in tutta la provincia di Frosinone e a tal proposito ti ricordi Gianni che facemmo proprio sei mesi fa nel giugno scorso del duemila e venti una conversazione proprio sul millenovecentonovantadue la febbre da cavallo del novantadue si intitolava una conversazione con il senatore Romano Misterville che è disponibile proprio su liberi.tv e l'ho rivista a distanza di sei mesi dopo la scomparsa del senatore mi sono commosso perché ho ritrovato in quella conversazione quasi un testamento politico di dell'avvocato Romano Misterville e quindi soprattutto eh in un passaggio dove lui parla ai giovani eh si rivolge agli studenti ai ragazzi e quindi chi non l'avesse visto consiglio di rivederlo perché veramente eh un documento che resterà forse è l'ultima eh diciamo partecipazione pubblica intervista pubblica del senatore non so se ne abbia fatte altre ma comunque è stata un'intervista interessante è abbastanza anche lunga una conversazione abbiamo portato vari appuntamenti abbiamo ricordato anche altri personaggi che purtroppo non sono più con noi come eh Mauro Millini per esempio eh e sì comunque sia è disponibile sulla pagina Facebook è stata eh l'ho rimessa e quindi comunque si può trovare sul sito come anche su YouTube. Benissimo allora detto questo eh siccome nell'ultimo dibattito comunque sono arrivati altri feedback eh di persone che hanno visto la discussione con Marco Mastronardi e mh hanno detto alcuni ma eh ma chi te lo fa fare Pierpaolo di preoccuparti di Frosinone? Tu ormai lavori a Roma e hai anche una soddisfazione personale sul piano eh del riconoscimento eh hai fatto delle cose importanti a Roma al teatro come regista come autore gli studenti dell'istituto Tommaso Salvini di Roma che è il più grande istituto che c'è in Italia pensate che nella mia scuola siamo centoottanta professori e oltre due mila e duecento due mila e trecento studenti quindi è una scuola veramente e allora dice hai tante soddisfazioni ma perché ti preoccupi di Frosinone? Beh perché io eh abito e risiedo a Frosinone pur essendo per necessità di lavoro e familiari domiciliato a Roma la mia residenza è sempre rimasta a Roma è sempre rimasta a Frosinone sono sempre stato eh legato anche fisicamente alla mia città sono sempre tornato ai fine settimana e eh lì ho i miei amici la mia famiglia eh le mie diciamo il mio stato eh originario ecco e quindi non posso eh che essere contento di eh occuparmi preoccuparmi di Frosinone proprio perché eh lo sento come come un richiamo necessario me ne porrei disinteressare però l'indifferenza non mi piace siccome vedo tanta indifferenza rispetto alla situazione che si vive eh nel capoluogo ehm Frosinate io non mi sento di eh girare il volto dall'altra parte potrei farlo ma è tanto l'amore e il l'attaccamento alla mia città che non riesco non riesco a stare mh così con le mani in mano e allora eh visto che eh sono a Frosinone fin di settimana cerco di eh essere presente più che possibile per quanto riguarda ovviamente questa fase di covid anche a distanza io eh vorrei che si aprisse veramente un dibattio una discussione sulla nostra città e quindi eh spero che questo mio impegno eh per Frosinone al di là di tutto venga ehm colto per quello che è cioè un atto d'amore per la mia città per la nostra città non ho fini eh altri eh qualcuno ha detto chissà perché giocano molto su eh le dietrologie no chissà Pierpaolo Segneri che cosa ha in mente dietro no niente io come mi vedete sono quello che vi dico e quello che penso e vorrei soltanto eh dare una svolta veramente a Frosinone sul piano anzitutto della mentalità del modo di sentire e di partecipare alla vita pubblica a cominciare dai cittadini e soprattutto dagli studenti dai ragazzi perché io credo che molti eh molte delle risorse Frosinati siano proprio risiedano proprio nelle nuove generazioni ecco grazie innanzitutto grazie per Paolo e grazie Gianni di avermi invitato a questa trasmissione anche per per darmi modo anche di esprimere il il mio pensiero che è qualcosa che ormai come dicevi anche tu anzi colgo ancora l'occasione per ringraziarti di queste di questa tua attività che stai portando avanti perché siamo eh in una in un'era di totale penuria di idee di mediocrità di pensiero e di assoluta assenza di visione politica del nostro territorio quindi ben vengano le azioni come la tua Pierpaolo che almeno danno smuovono un po' questo torpore come hai più volte anche tu eh detto in precedenti appuntamenti con con altri ospiti questo torpore che c'è ormai da 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 troppo tempo forse probabilmente da decenni ecco da quando gente come come l'avvocato misterville come altri della sua della sua epoca anche di altre fazioni politiche anche contrapposte hanno da quando hanno smesso di di occuparsi della cosa pubblica eh probabilmente quelle menti non hanno lasciato una vera eredità politica e quindi eh c'è c'è bisogno di confrontarsi c'è bisogno di 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 seminare c'è bisogno anche di di un aspro confronto cosa che che manca ci si ci si limita molto spesso a all'amministrazione quasi del condominio fino a se stessa del del piccolo bilancio delle piccole cose non c'è una visione di lungo periodo eh non si sa io come come hai detto anche tu io sono innamorato della mia terra eh ci sono tornato dopo esperienze fuori eh non è semplice vivere qui te lo dico con con franchezza poi quando hai famiglia eh sei un ex giovane diciamo eh hai famiglia figli non è non è facile vivere in una realtà come Frosinone eh però l'amore per questo territorio mi ha mi ha spinto sempre a impegnarmi a occuparmi di politica eh fin da giovanissimo per poi candidarmi sindaco nel duemiladiciassette e fare consigliere comunale di opposizione comunque è stata una ottima palestra fino adesso per per capire anche i meccanismi dell'amministrazione e della politica però mi mi sono scontrato con con una realtà ecco quasi un muro di gomma perché non c'è non c'è capacità eh di di vedere questo territorio fra vent'anni fra trent'anni questo vale un po' per tutti eh e invece io credo per ricollegarmi a quanto dicevo all'inizio credo che la questa tua attività sia fondamentale per dare una smossa generale e per per cercare di diseminare qualcosa per anche solo per buttare giù delle idee che magari possono essere eh contrapposte ad altre idee però almeno si inizia a parlare di qualcosa perché altrimenti io vedo fra un anno e mezzo una campagna elettorale che si combatterà su probabilmente su dietrologia su populismo su cose veramente di di poco conto e che non cambieranno la vita della dei nostri concittadini. Ti ringrazio Cristian tra l'altro mentre parlavi mi hai fatto venire in mente una cosa eh che ho sentito proprio del senatore misterville eh in un'intervista l'intervistatore gli ha chiesto eh un po' di tempo fa eh mh era un audio video ma eh la politica che è cambiata o sono i politici che sono cambiati ecco il senatore misterville ha risposto testuali parole la politica cammina sulle gambe degli uomini sulle gambe delle persone questa è stata la risposta cioè eh quello che conta sono le persone questo è uno degli elementi che sto cercando di immettere nel dibattito politico perché si riaccenda si si riprenda a dialogare a creare un contraddittorio affrosinone a partire da questo è inutile cominciare a parlare eh che ne so delle singole situazioni specifiche o programmatiche in questa fase questo riguarda la fase del dei programmi elettorali che ma così quando se ci saranno le elezioni quando ci sarà il momento della competizione elettorale o delle primarie se il centrodestra e centrosinistra faranno le primarie lì emergeranno anche ora siamo in una fase in cui invece dobbiamo cercare di capire anzitutto qual è la fotografia che possiamo fare oggi di Frosinone e quali sono le eh proposte le idee in campo in maniera tale che possano emergere finalmente delle visioni politiche come diceva Cristian la visione politica non può guardare alla prossima campagna elettorale deve guardare al futuro ai prossimi quindici anni ai prossimi venti anni ecco perché io mi rivolgo ai ai ragazzi agli studenti ai giovani perché io sono sicuro che una delle bellezze di Frosinone sia di proprio nei ragazzi e questi ehm diciamo giovani delle nuove generazioni vivono una situazione un po' sconcertante per cui le loro qualità il loro talento le loro capacità invece di essere valorizzate proprio un'ottica politica da chi dovrebbe stimolare dando anche gli strumenti ai cittadini per poter mh accrescere le proprie qualità e affermare il proprio talento quasi vengono schiacciati quindi sento eh i ragazzi che non vedono l'ora di diplomarsi per poter scappare da Frosinone anche perché a Frosinone non c'è l'università se possibile a Roma o a Cassino ma anche più lontano se possibile perché giustamente vogliono conoscere il mondo ma vogliono scappare da una situazione che non è quella che loro ritengono possa soddisfare le loro aspettative mi hanno detto tra le varie eh lettere che mi sono arrivate no che sono effettivamente un sognatore cioè sì io ho un sogno ho un ho un sogno per Frosinone riaccendere l'anima della città e dei cittadini perché secondo me Frosinone potrebbe essere bellissima e anche oggi ci sono a livello di scorci di di potenzialità di strutture di umanità degli elementi delle persone che potrebbero eh rendere questa città veramente un un luogo di grande bellezza non nel senso cinematografico ma di vita che purtroppo oggi non c'è e ho parlato di vuoto culturale dovuto al vuoto di politica siccome c'è un vuoto di politica non c'è più politica o c'è potere fino a se stesso clientelismo eccetera eccetera oppure c'è eh l'amministrativismo eh per eh fare le cose ma non c'è più no io penso a Cristo è in consiglio comunale forse vorrà raccontare la sua esperienza se riesce a meno in quella sede a ritrovare lo spazio del dibattito politico lui pure dice anche lì il consiglio comunale è svuotato della sua funzione di controllo e di dibattito e quindi eh credo che riaccendere la luce negli occhi di questi ragazzi pensare a Frosinone fra quindici anni e vent'anni è non soltanto una necessità ma diventa proprio un'urgenza per chi sente che Frosinone ha una sua forza che può trasformarsi in bellezza che può trasformarsi in qualcosa di conosciuto anche al di là del circuito ristretto del territorio Frosinate non so Cristian tu che pensi di questa cosa anche in consiglio comunale che cosa no ma poi voglio anche aggiungere una cosa Cristian non gli diamo la parola eh Cristian tu sei stato candidato nel duemiladiesette come sindaco qual è stata diciamo la procedura che poi ha portato a questa candidatura all'interno del Movimento Cinque Stelle beh diciamo si sono fatte delle primarie interne tra dove siamo usciti poi due candidati finali eh che eravamo io e Marco Mastronardi e alla fine della votazione nella votazione finale ho prevalso io di di pochi voti su su Marco e quindi poi c'è stato tutto l'iter per avviare la campagna elettorale da da candidato sindaco sostanzialmente è andata così comunque è stata in consiglio come è stata? Beh l'esperienza di consiglio comunale sicuramente come dicevo anche prima è stata una ottima palestra per scusate per iniziare una un'attività politica vera e propria quindi assolutamente eh importante formativa questi quattro anni sono stati assolutamente formativi eh utili anche per imparare dai del di più esperienza questo è fuori di dubbio ehm anche per smussare dei lati magari un po' troppo grezzi e irruenti del del carattere politico del sottoscritto che chiaramente eh bisogna sempre poi imparare dagli altri e assolutamente è stata una una buonissima esperienza la valuto molto positivamente eh anche se ma detto il consiglio comunale Cristian eh tu riesci a svolgere quello il ruolo che ti aspettavi o hai trovato una situazione diversa cioè questo bisogno di dibattito politico che sia aperto che sia conosciuto è una mia fissazione oppure effettivamente a Frosinone mh funzionano altri meccanismi che non sono quelli di una eh di un'idea della città ma di un modo di comandare sulla città le mani sulla città direbbe Francesco Rosi tu che idea ti sei fatto dall'interno del consiglio? No è esattamente come dici purtroppo io la penso come te probabilmente ho anche un approccio molto simile al tuo eh anzi molto spesso mi è stato mi è stato rimproverato il non aver fatto troppa opposizione ecco io invece per come sono fatto sono un portatore di idee eh e quindi speravo di entrare in consiglio comunale passare questi cinque anni comunque ad apportare un mio pensiero a portare all'attenzione delle forze politiche presenti non solo della della maggioranza ma anche della minoranza eh un modo diverso di pensare perché poi chiaramente ognuno è portatore di idee differenti eh invece molto spesso ecco ci si è limitati al puro amministrativismo al anche perché chiaramente bisogna ricordarlo Frosinone in una situazione finanziaria eh estremamente precaria quindi è difficile anche poter eh immaginare di 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 investire in qualcosa eh senza degli equilibrismi finanziari però comunque eh io quello che ho constatato è la totale assenza di eh oltre divisione politica in generale ma l'identità di questo posto che manca assolutamente cioè qual è l'identità di Frosinone? Frosinone sì nominalmente il capoluogo della provincia della provincia sociala diciamo che poi non è tutta socialia però comunque del della provincia di Frosinone di territori che sono comunque differenti tra di loro però ha perso ormai da da diverso tempo parecchio tempo anzi la ruolo di guida che aveva magari fino agli anni novanta eh perché ha perso anche la propria identità da quando c'è stata la dismissione quasi totale della dell'area industriale non si è più capito che cosa di cosa si potesse vivere da queste parti e e anche quindi si sono persi con quei due pochi appigli rimasti anche ai giovani eh per rimanere da per rimanere appunto qui non solo Frosinone poi ho visto che tu hai parlato molto spesso di grande capoluogo come l'amico eh Vincenzo Iacovissi che è un carissimo amico noi abbiamo iniziato non so se te l'ha raccontato comunque abbiamo iniziato l'attività politica insieme nei giovani socialisti io e Vincenzo quindi siamo coetanei e abbiamo a tutto il percorso delle delle giovanili insieme quindi ho imparato molto anche da da Vincenzo che è una persona che stimo moltissimo estremamente competente capace e gli auguro un radioso futuro politico ehm però diciamo si è manca totalmente questa questa identità di di territorio che non non si sa di cosa di cosa ci deve vivere di cosa si può vivere e su cosa poi è andare ad investire quelle poche risorse che possono arrivare da fuori eh dall'Europa dalla regione da da dallo Stato da da quegli enti che hanno possibilità di fare investimenti eh infatti scusa ehm eh un elemento che non abbiamo trattato con Vincenzo che ho visto quando abbiamo fatto il dibattito proprio invece riguardante l'area intercomunale la città metropolitana cioè che il presupposto per arrivare all'unione dei comuni eh così come eh anche l'associazione Frosinone al centro propone bisogna creare i presupposti eh politici cioè eh federare questi comuni tra di loro eh Frosinone e i i comuni della cintura in un'unica realtà metropolitana significa prima di tutto creare le occasioni di incontro di di relazione che sia sul piano politico accessibile e preparatorio anche da parte di amministrazione di colore diverso non importa creare quel dibattito che porti prima ad unire questi comuni sul piano diciamo dell'intesa politica della convergenza verso un obiettivo comune e ho fatto l'esempio che so dell'Europa no? Quando eh è iniziata eh la costruzione dell'Europa unita Luigi Enaudi eh che appunto era da poco eh aveva terminato da poco il settennato come presidente della Repubblica Luigi Enaudi ricordiamo eh liberale uno dei più grandi statisti forse il più grande statistico italiano della nostra Repubblica che cosa fece? Disse stanno costruendo l'Europa economica e non hanno e non stanno preparando l'Europa politica che succede che se tu realizzi prima l'economia diceva lui e poi la politica perché poi la politica seguirà stanno commettendo un gravissimo errore dice Enaudi prima viene la politica poi viene l'aspetto economico infatti dall'aspetto economico poi si è arrivato a quello eh prima parlavo della MEC no? Cioè della ceca addirittura originariamente del carbone dell'acciaio poi la CEI comunità economica europea eccetera poi la moneta unica si è andata avanti su quello ma le istituzioni livello politico i passi in avanti sono stati eh molto eh ridotti rispetto al al treno ad alta velocità dell'aspetto economico monetario finanziario in Europa ecco forse per il comune di Frosinone e per la città metropolitana per l'area intercomunale servirebbe creare il terreno per permettere alle premesse politiche di favorire questo tipo di discorso e manca ed è mancato proprio questo non so tu come la pensi Cristian su questo aspetto ma guarda io non sono contrario a prescindere o a priori a un progetto del genere quando si è quando si votò in consiglio comunale eh diciamo di l'intento di voler iniziare questo tipo di percorso io feci delle domande io mi sono stenuto eh mi sono stenuto perché ho fatto delle domande al sindaco direttamente dicendo ma noi abbiamo un obiettivo con gli altri comuni con cui andremo a federarci per fare questo grande capoluogo o lo facciamo perché è una mera e stretta necessità di contenere i costi di servizi che non possiamo più mantenere e e c'è anche la registrazione perché il consiglio comunale è registrato era in diretta e c'è la registrazione la risposta fu proprio questa anche del presidente del consiglio comunale fu l'obiettivo è quello della riduzione dei costi dei servizi allora se noi andiamo soltanto a fare un qualcosa che è meramente economico senza come dicevo avere l'obiettivo di metterci insieme io faccio l'esempio eh abbiamo parlato di Europa quando si chiedono l'Europa per quando dai finanziamenti ehm diciamo nei requisiti privilegia anche le reti di imprese quando se ci sono delle reti di imprese sono favorite per avere questi finanziamenti rispetto magari ai singoli o alla singola impresa o ai privati e queste reti di imprese sono predente delle imprese che si mettono insieme per un obiettivo allora se noi abbiamo un obiettivo ci mettiamo insieme e perseguiamo questo obiettivo insieme allora tutto può avere senso ma se prima facciamo l'istituzione poi lì andiamo a a vedere eh chi deve fare cose eccetera poi l'obiettivo non verrà neanche più trovato e ci ritroveremo in una situazione tipo l'Europa che scricchiola al momento perché ognuno vuole andare per sé ovviamente ci si ritrova insieme anche mal volentieri perché appunto non si ha un un obiettivo comune non si ha una una strada comune da per correre per per arrivare a qualcosa da da poi da realizzare e poi vediamo ecco la eh l'Inghilterra è uscita eh ci sono malumori in poi in tanti altri paesi quindi ci ritroveremo che magari esce ceccano fra fra quindici anni perché non non si trova più bene in questa realtà o comunque non ha portato nessun miglioramento se non quello di pagare meno magari i rifiuti o o il trasporto eh extraurbano allora prima pensiamo facciamo che ne so una metropolitana che collega leggera che collega a tutti i paesi riusciamo a muoverci facciamo delle infrastrutture bene ci mettiamo insieme e chiediamo i soldi all'Europa chiediamo i soldi agli enti sovracomunali allora poi ha senso anche il grande capoluogo il grande capoluogo a cosa deve servire questo è una cosa a cui nessuno mi ha risposto se non quello del del dei costo minore dei servizi quindi cercare di di ovviare a una situazione di oggettiva povertà del nostro territorio che anzi poi il covid probabilmente accelerato anche a dismisura quindi infatti abbiamo abbiamo sette minuti ve lo dico abbiamo sette minuti dico dico una cosa e poi lascio la parola a Christian proprio per questo secondo me un altro aspetto importante è quello se almeno nelle intenzioni dell'associazione frusinone al centro stimolare anche diciamo il pensiero borghese cioè tutte quelle realtà della borghesia frusinate che avendo una situazione economica di prestigio che possano sentire di appartenere a un a una comunità di destino che è quella appunto del frusinate e di trovare eh nella propria missione non soltanto imprenditoriale aziendale ma ehm di cittadinanza attiva quello che è smosse per esempio Adriano Olivetti con le sue iniziative eh legate eh proprio al miglioramento del della propria comunità anzitutto eh lavorativa no? ma ehm diciamo tutto il pensiero di Max Weber io inserisco degli elementi culturali perché per me eh politica è cultura e cultura è politica solo così si riesce a stare attenti alle persone a quello che vivono e a comprendere quello di cui hanno bisogno e mandiamo la nostra anche a Christian di rispondere dico l'ultima cosa una frase di un articolo che ho ritrovato che avevo scritto per l'inchiesta del 30 luglio 2019 una frase di Max Weber proprio in virtù di questo la politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso è perfettamente esatto e confermato da tutta l'esperienza storica che il possibile non verrebbe mai raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile la parola a Christian per concludere ma mi trovi perfettamente d'accordo su questo eh chiaramente se si fanno sempre le stesse cose è difficile poter ottenere risultati differenti quindi eh va bene anche perseguire quello che ad oggi può sembrare impossibile ma ma magari in futuro può può essere facilmente realizzabile io credo che la politica debba guidare i processi e non eh non sottostare invece agli accadimenti e agli avvenimenti in maniera passiva eh quindi benissimo questo tipo di due iniziative dobbiamo capire qual è la nostra identità qual è il nostro futuro cosa vogliamo fare e cosa la realtà allargata appunto di questo grande capoluogo deve fare la nostra valle del sacco possibile che noi dobbiamo limitarci ad essere sito di smaltimento rifiuti che arriva da tutta Italia non possiamo immaginare altro un polo di formazione del nostro capoluogo che sfrutti anche le eccellenze internazionali che abbiamo che siano l'accademia eh di belle arti il conservatorio anche magari aggiungere qualcosa in futuro la cultura che è fondamentale assolutamente fondamentale anche per seminare qualcosa da queste parti che possa essere poi turismo può portare persone da tutto il mondo perché fortunatamente noi abbiamo ad esempio i cinesi che vengono a studiare qui all'academia delle arti coreani che vengono a studiare al conservatorio quella è già cultura che noi esportiamo e quindi eh dobbiamo sfruttare questi processi per innescarne degli altri e portare a a compimento anche una una valorizzazione della nostra identità della nostra cultura che è millenaria noi arriviamo dai volci quindi ogni tanto esce fuori qualche piena del fiume ci ci riconsegna delle cose eh millenarie e noi dovremmo ricordarci di questo anche delle nostre tradizioni di ciò che eravamo e di di cosa festeggiavamo eh cento duecento trecento anni fa non per forza scimmiottare gli altri ma riscoprire le nostre tradizioni riscoprire la nostra identità l'identità è qualcosa di fondamentale le nostre radici servono devono essere eh fatte conoscere appunto ai giovani per capire da dove vengono e dove possono arrivare perfetto io vi ringrazio ringrazio per Paolo Segneri presidente dell'associazione Frosinone al centro professore docente di lettere presso l'istituto di istruzione superiore Tommaso Salvini di Roma e Cristian Bellincampi consigliere comunale a Frosinone già candidato sindaco nel duemiladiciassette lo ricordiamo eh per il Movimento Cinque Stelle. Grazie di aver partecipato e mh questa questa trasmissione crato il futuro eh questa finestra di approfondimento e chiudiamo come di consueto abbiamo fatto forse con una piccola eccezione forza Frosinone chiudiamo grazie Gianni forza Frosinone grazie a Cristian per il suo dialogo grazie forza Frosinone grazie grazie a voi buona serata buona esperanza 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 buona esperanza